Sette arresti operati dai finanzieri del comando provinciale di Pescara, sette persone ritenute promotrici di un'organizzazione specializzata nel traffico e spaccio di eroina e cocaina. L'indagine prende il via nel settembre 2014 quando una donna di origine rom viene sorpresa a cedere 50 grammi di eroina. Tutta l'organizzazione, composta da rom e albanesi, ruota attorno al traffico di droghe pesanti. Fondamentali nell'indagine sono state le intercettazioni operate. In un anno sono state attenzionate 150 utenze, 10.000 ore di conversazione. I componenti dell'organizzazione si muovevano con cautela per evitare di essere intercettati. Il grande quantitativo di denaro fruttato dallo spaccio rendeva possibile il cambio ciclico di autovetture utilizzate e anche la bonifica delle zone. Secondo i registri contabili, ritrovati dalla finanza, in un mese il traffico fruttava 100.000 euro. Si trattava di un vero patto criminale. I rom, moglie e marito, si occupavano della rete dello spaccio che interessava il litorale terramano, fino ad arrivare ad Ascoli. Gli albanesi invece facevano arrivare stupefacenti da Olanda, Germania e Albania. Secondo le indagini della finanza, l'organizzazione aveva grosse potenzialità e poteva procurarsi anche armi per intimidire i concorrenti sul proprio territorio. Nel modus operandi c'era anche l'accortezza di non portare mai stupefacenti nelle proprie abitazioni. Utilizzavano i boschi per sotterrare involucri da riprendere nel momento dello spaccio. I finanzieri hanno trovato tracce di questi passaggi nei boschi e casolari tra Terramo e Pescara. Per quanto riguarda il denaro, erano soliti sigillarlo, imbustarlo e spedirlo in Albania tramite autoline, borzoni contenenti pacchi di pasta o bottiglie. In questo caso, secondo le indagini, l'organizzazione si forniva di un autista connivente di origine albanese. All'appello mancano ancora due uomini, entrambi albanesi, rientrati in patria da mesi. Uno considerato il capo della rete criminale e l'altro invece un gregario. Cinque sono i chilogrammi di stupefacenti sequestrati dalle forze dell'ordine.